Ciao! Il periodo di distanziamento sociale sta finendo e siamo pronti a ripartire. Ora come ora hai potuto prendere consapevolezza di quello che erano i tuoi desideri. Hai vissuto in casa e sicuramente ti sarai reso conto che avevi bisogno di uno spazio in più, di uno spazio migliore da vivere diversamente. Le tue idee chiare ti potranno portare a scegliere il tuo immobile con le caratteristiche che vorrai. Guarda tutti gli immobili che ti proponiamo, guarda il metodo in cui te lo proponiamo. L'azienda con la quale collaboro si chiama Amazon. Da anni siamo specializzati nel web. Abbiamo le ultime tecnologie per la presentazione e la valorizzazione degli immobili. Questo permette all'acquirente di fare una visita virtuale, di poter guardare e osservare con attenzione il proprio futuro acquisto, di poterne studiare gli spazi e poter vedere come potrà essere la sua futura casa. Alla visita non si troverà nessuna sorpresa. Omezon, Banta, la collaborazione con numerosi professionisti del settore immobiliare, finanziario e del reparto tecnico architettonico per darti tutte le consulenze gratuite che hai bisogno rispondere a ogni tua domanda. E se hai un immobile da vendere, non ti preoccupare. I nostri professionisti immobiliari, la nostra rete vendita sarà a tua disposizione per trattare il tuo immobile nel miglior modo possibile. Ti offriremo foto di qualità, presenza sul web, virtual tour per le visite virtuali a distanza e la miglior competenza nel settore del mercato immobiliare. Se ti piace quello che stai vedendo, se vorrai acquistare un immobile o se avrai un immobile da vendere, potrai seguire il canale, mettere mi piace al video e iscriverti. Sarai sempre informato. E allora, non perdere tempo, fai come loro, perché il nostro metodo di lavoro non conosce distanze, né ampie né brevi. Contattaci e non te ne pentirai. Contattaci e non te ne pentirai. Contattaci e non te ne pentirai.